Design e contract nell'hospitality, retail, ufficio e residenziale. Oggi, martedì 13 dicembre 2016 a Milano, ha avuto luogo il convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore, in cui si è parlato di strategie, arredo e allestimenti. Circa 400 gli architetti presenti e molte anche le aziende, che hanno avuto modo di presentarsi e presentare i propri prodotti. Potrei definire l'azienda un'alta sartoria del marmo. Abbiamo tre anime, un'anima classica, un'anima contemporanea e un'anima design, che abbiamo sviluppato negli ultimi 8-10 anni. Siamo una palestra creativa per gli architetti perché noi realizziamo tutto su misura. in tutto il mondo e abbiamo la possibilità di posare tutte le nostre opere in tutto il mondo con squadre specializzate interne. Perché abbiamo una scelta molto accurata del materiale, abbiamo una ricerca molto sviluppata nell'innovazione, tant'è vero che abbiamo sviluppato negli ultimi anni un progetto di marmo slim, quindi marmo ultraleggero, e di recente abbiamo anche sviluppato una linea eyewear, occhiali in marmo, con una spessore che arriva a tre decimi di millimetro. Quindi innovazione e qualità. L'architetto è sempre il nostro primo approccio, quindi chi viene da noi sono sempre gli architetti con i loro progetti, con le loro richieste, e quindi per noi è il modo di ampliare le conoscenze e soprattutto di confrontarci anche con architetti italiani. Di solito lavoriamo con molti architetti stranieri, in questo caso ci fa molto piacere lavorare con gli architetti di Milano e italiani, assolutamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.